Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vedremo come installare GBA4 iOS Un emulatore dei vecchi Game Boy su un iPhone senza sidia E' una cosa veramente semplice e quindi possiamo cominciare Vi invito a lasciare un bel mi piace Iscrivetevi alla mia pagina Facebook e al mio canale Cominciamo aprendo Safari e scriviamo iOS emusapp.com Farò uno zoom per farvi vedere meglio E clicchiamo su install now Quindi dovremo installare un nuovo profilo Metteremo la nostra password e clicchiamo ancora su installa Il profilo è stato installato e clicchiamo su fine Andiamo nella seconda pagina della home screen e troviamo iOS emus Ora dovremo cliccare sul simbolo download E dovremo andare nella sezione emulators Dovremo scaricare la quarta voce GBA4 2.1 Ora andando nella home screen ci apparirà un avviso e noi cliccheremo su installa E ci starà scaricando GBA4 iOS Ora GBA4 iOS è scaricato Se mi date ancora qualche minuto vi spiego come scaricare i giochi Dobbiamo cliccare sulla lente di ingrandimento e ci si aprirà un browser dove noi scriveremo GBA roms download free Noi avremo vari siti Quello che vi consiglio è ROM Hustler Che sarà presentato così Prendiamo come esempio uno dei giochi già scritti come Mega Man Zero Ora dovremo cliccare su download di SRAM Tra le due pubblicità E clicchiamo ancora sul tasto download Clicchiamo su save anche se potremo personalizzare il nome se vogliamo Quando la barra dell'applicazione sarà completata Il gioco sarà utilizzabile Ora vedrete che funziona Questo tutorial aggiunge il termine Mettete un bel mi piace al video e alla mia pagina facebook E iscrivetevi al mio canale Ciao a tutti Grazie